Turbativa d'asta e corruzione. Questa è l'ipotesi di reato che ha visto nelle scorse ore la Guardia di Finanza di Torino perquisire una trentina di obiettivi tra ospedali, asr, aziende e abitazioni private. Interrotto di fatto un malcostume diffuso, fatto di gare d'appalto, truccate ed ipotesi di corruzione all'interno della sanità piemontese. Le indagini condotte dai finanziari del gruppo Torino e coordinate dalla locale procura della Repubblica hanno portato a sequestro di molto materiale e copiosa documentazione a Torino e nelle province di Alessandria e Novara, gravi secondo gli inquirenti l'ipotesi di reato carico degli indagati con conseguenti danni patrimoniali ed economici all'intero servizio sanitario nazionale, a vantaggio in particolare di un'azienda torinese e di una multinazionale veneta leader nel settore della fornitura di prodotti e parecchiature mediche. Nel corso dell'operazione i finanziari hanno anche sequestrato in via preventiva a conti correnti riconducibili a tangenti ricevute da parte di uno degli indagati di Torino. Nel mirino della procura degli uomini del primo nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza torinese anche alcune gare d'appalto sospette che potrebbero essere state preventivamente ed appositamente stilate per favorire la società multinazionale oggetto di indagine, la quale ad avvenuta giudicazione avrebbe potuto beneficiare di milioni di euro per la fornitura di camici divise per medici e infermieri pimentesi. All'ospedale di Alessandria le indagini avrebbero portato a individuare la corruzione di un coordinatore infermieristico membro della Commissione per la gara d'appalto, attenzionata per la fornitura di prodotti e parecchiature mediche e chemioterapiche, favorendo una specifica società. L'operazione, denominata Molosso, vede attualmente indagati a vario titolo dall'autorità giudiziale torinese 19 persone e cinque società.